Marzala, omicidio di Nicolette Indelicato, ritrovato il coltello con la quale la giovane è stata uccisa. Preso il killer di Vincenzo Urso, l'imprenditore ucciso nel 2009 ad Altavilla Milicia. La musica per dare voce alle donne col tumore al seno, metastasico, presentata a Palermo, la campagna Voltati. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di venerdì 22 marzo. In apertura l'omicidio di Nicolette Indelicato a Marzala, ritrovato il coltello con la quale la giovane è stata uccisa. Domani l'autopsia potrebbe portare nuovi sviluppi all'inchiesta. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco in supporto ai carabinieri di Marzala hanno trovato l'arma con la quale è stata uccisa Nicolette Indelicato. Si tratta di un coltello da cucina con una lama di 20 cm recuperato nel torrente Mazzaro che scorre parallelo alla statale 115 a Mazzara del Vallo. Per domani è previsto l'esame autoptico che potrebbe aggiungere qualche tassello mancante alla vicenda che rimane comunque ancora tutta da chiarire. Infatti si continua ad indagare sul movente che ha portato all'uccisione di Nicoletta. La versione di Carmelo Bonetta, reo confesso, non convince pienamente gli inquirenti. Doveva pagarla, avrebbe detto durante l'interrogatorio perché aveva detto a Margareta che eravamo stati a letto insieme e messo voce in giro su di me dicendo che era un tossicodipendente. Un movente che sarebbe solo il culmine di vecchi rancori che avrebbe spinto la coppia all'omicidio. Margareta Bonetta ha dichiarato agli inquirenti di non ricordare nulla mentre Bonetta ha dichiarato che la fidanzata si è rifugiata in auto mentre la occoltellava. Lunedì probabilmente si svolgeranno i funerali e per il giorno dell'ultimo saluto a Nicoletta il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo ha proclamato il lutto cittadino. Vogliamo onorare la memoria della giovane ragazza marsalese nel contempo, sottolinea il primo cittadino, confermare ai familiari la vicinanza e il cordoglio della popolazione. Preso il killer di Vincenzo Urso, l'imprenditore ucciso nel 2009 ad Altavilla Milicia. I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Pietro Erco, considerato l'esecutore materiale del delitto. Fondamentali le dichiarazioni dei pentiti Andrea e Francesco Lombardo. I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Pietro Erco, 56enne di origini napoletane, da anni residente a Trabbia accusato in concorso con altri soggetti noti di omicidio volontario premeditato, aggravato dall'uso delle armi e dal metodo mafioso. Secondo le indagini sarebbe stato lui ad aver ucciso Vincenzo Urso nella notte tra il 24 e il 25 ottobre del 2009 ad Altavilla Milicia, quando un commando attese il rientro a casa dell'imprenditore per poi ucciderlo con numerosi colpi di arma da fuoco. A inizio marzo a finire in manetta era stato Luca Mantia, trentenne di Termini Merese, ritenuto l'autista del commando omicida di quella notte. A dare la svolta alle indagini le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Francesco Lombardo, Andrea Lombardo, arrestati nel gennaio 2017 e ritenuti mandanti del delitto e Massimiliano Restivo, anche lui convolto nell'omicidio. Sempre secondo le dichiarazioni Urso avrebbe cercato di far concorrenza alle attività dei Lombardo e di altri esponenti mafiosi del mandamento di Bagheria, i quali, al pari della vittima, svolgevano l'attività imprenditoriale di movimento terra nella zona di Altavilla Milicia e Palermo. I mafiosi di Bagheria non avrebbero quindi tollerato l'atteggiamento irrispettoso e non compiacente nei confronti di alcuni capi storici della consorteria mafiosa. Secondo le dichiarazioni di Andrea Francesco Lombardo, il delitto fu deliberato tra i vari componenti dell'associazione mafiosa, alcuni dei quali aventi un ruolo apicale nel mandamento di Bagheria. Cambiamo argomento, l'antimafia nella Chiesa, conferenza oggi a Palermo del progetto educativo antimafia promosso dal centro Piola Torre. Presente l'arcivescovo Corrado Lorefice. Oggi la Chiesa, a partire soprattutto poi con Giovanni Paolo II e poi a finire con Papa Francesco, soprattutto quando è stato qui a Palermo, oggi la Chiesa dice con chiarezza che ogni forma di esercizio di potere è antievangelico e quindi a cominciare da quello del potere e tutti i poteri subdoli non corrispondono a quelli che sono le istanze più vere del cristiano perché semmai il cristiano è sempre dalla parte del più debole perché il cristiano si pensa a partire da Cristo che nel suo stile di vita ha assunto proprio quello invece dell'abbassamento, non un esercizio di potere ma una condivisione rispetto a chi è più debole. Questa è la forza del cristianesimo. Allora chiarezza, solarità, servizio, questi sono i criteri che debbono senza dubbio guidare la vita dei cristiani e tutti quelli che si assumono nella vita appunto il potere, l'unico potere ammissibile che è quello del servizio e questo vale per la politica, questo vale per le amministrazioni. Da qui anche la chiarezza di un messaggio che deve arrivare a tutti, deve arrivare a chi è mafioso, deve arrivare a chi ha anche altre finalità nella vita di associazioni che non vogliono comunque esprimere questo tipo di solarità. Rispetto alla questione diciamo più diretta che mi è stata posta della mia presa di posizione non solo nei confronti della mafia per l'appartenenza alle confraternite ma anche alla massoneria, mi pare che io abbia detto una parola molto precisa. I cristiani hanno un credo, non credono in un dio quindi non hanno un deismo ma credono in un dio che si è incarnato, credono in un dio Trinità e quindi già è una cosa del tutto diversa. Le strage del 92-93 diventa diciamo l'altro salto in avanti. Giovanni Paolo II ad Agrigento con il Convertitevi fino all'esplicita denunione e scomunica considerandolo così come nel diritto canonico senza il procedimento canonico sono scomunicati tutti i mafiosi perché è incompatibile la loro appartenenza all'Ecclesia. Ogni giorno i lavoratori europei dei trasporti lavorano in un clima di concorrenza sleale, dumping sociale e sfruttamento. I risultati tangibili sono la perdita di posti di lavoro, contratti precari e bassi salari. Per affrontare questa emergenza europea i sindacati di tutti i paesi si stanno unendo per chiedere ad imprese e governi l'eliminazione di queste pratiche inaccettabili. Iniziamo da Palermo che oggi, una settimana di manifestazione in tutta l'Europa a tutela dei lavoratori dei trasporti. E in tampini sociali, ha detto bene lei, colpisce i lavoratori dei trasporti in tutta Europa. Noi siamo contro ai contatti a tempo determinato, ai bassi salari, allo sfruttamento dei lavoratori, alla concorrenza sleale, alle gare a massimo ribasso e alla mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi chiediamo invece più occupazione per i lavoratori europei. Il dumping sociale è una piaga che colpisce l'Europa. Il dumping è una concorrenza sleale. Noi chiediamo che ci sia correttezza nei rapporti e trasparenza nelle attività del trasporto in Europa e in tutti i paesi europei. Perché contro questo sistema si determina una condizione nella quale i diversi paesi fanno una propria concorrenza a tutta danno dei lavoratori, che ne soffrono sul versante della sicurezza, sul versante dei salari, sul versante delle condizioni di lavoro. Noi a questo diciamo basta. L'Europa invece di dare risposte in questa direzione introduce sempre di più, tenta di introdurre sempre di più norme che invece di abbattere e di determinare condizioni di minore concorrenza e di minore dumping lo aumentano. Palermo insieme a Reggio Calabria è l'inizio di una staffetta che porterà in giro per l'Italia questa manifestazione. È una manifestazione che richiama l'attenzione dei media, delle istituzioni, dei stakeholders e tutti rispetto alla dignità del lavoro. Mettiamo in evidenza e sottolineiamo il guido d'allarme rispetto al dumping sociale che si determina rispetto ad un utilizzo improprio di contratti di una sleale concorrenza basata sull'abbattimento del costo e non sulla qualità del servizio o della condizione di sicurezza dei lavoratori. Ecco questo è l'obiettivo che ci si pone arrivando alla conclusione di questa staffetta a Bruxelles con una manifestazione di carattere europeo. Vertenza Blutec, CISL e FIM a termini merese. La FIM CISL chiede veri piani industriali e non carta straccia per rilanciare l'intero territorio. Quello che continuiamo a ribadire è che i lavoratori di termini merese vogliono il lavoro, non certo, forma di assistenzialismo. L'incontro del prossimo 9 aprile al Mise deve servire a dare certezze. Qui ci sono le professionalità, la storia di un filone produttivo come quello dell'automotive, importante per tutto il paese. Si faccia di tutto per far rinascere la fabbrica e tutto il territorio. Questo l'appello lanciato al termine della manifestazione di ieri a termini merese dal segretario nazionale FIM CISL, Ferdinando Uliano. Al suo fianco, con i migliaia di lavoratori in corteo, sindaci, rappresentanti della Chiesa, studenti, commercianti che hanno abbassato le saracinesche al passaggio dei manifestanti in segno di solidarietà. Dietro ogni lavoratore che ha manifestato non c'è solo una famiglia, ha rimarcato il sindacato, c'è un intero territorio che attende risposte. Troppe volte abbiamo assistito a sfilate di rappresentanti politici per gli incontri sulla vertenza che poi non hanno portato a soluzioni definitive. Qui resta il dramma di vivere con una situazione di irreddito ridotto e il dramma di un intero paese che non ce la fa più. La vera emergenza, hanno affermato ancora, è quella della mancanza di politiche industriali vere. In tutto il paese manca una strategia. Crediamo sia fondamentale trovare un nuovo percorso di rilancio per questa fabbrica, ma con imprenditori che siano seri e credibili, con piani industriali che non siano carta straccia, altrimenti non si potrà mai costruire un futuro con reali prospettive. Il MISE si impegni per questo, per una soluzione che sia definitiva e la Regione faccia la sua parte anche sul fronte infrastrutturale. Si realizzino le opere per l'interporto di termini, le strade, tutti quei collegamenti che possano rendere competitiva e appetibile la zona per nuovi investimenti. Noi siamo pronti a portare avanti la battaglia fino a quando non otterremo vere risposte da tutti gli interlocutori istituzionali. Bancari e rinnovo del contratto. A Palermo la riunione del Consiglio regionale Uilca. Presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale che punta a rilanciare il settore del credito, a tutelare la clientela, a aumentare la crescita occupazionale soprattutto al sud. Ascoltiamo l'intervista al segretario regionale Uilca, Massimo Masi. Viene presentata oggi in Sicilia la piattaforma sul rinnovo del contratto. Quali sono i punti che verranno affrontati? Beh, intanto è una piattaforma molto forte e molto equilibrata perché noi parliamo sia agli iscritti, ai lavoratori o ai lavoratrici con una richiesta economica che va sulle 200 euro ma è una piattaforma che parla di tutto, del rapporto con la clientela, del rapporto con le istituzioni, del rapporto con il settore civile, quindi con l'economia. E poi naturalmente parliamo dei problemi dei bancari, parliamo dei problemi di cui non raffrontare nel futuro, queste esternalizzazioni che sono molto forti, questo problema che c'è nel settore delle persone commerciali. Quindi è una piattaforma veramente complessa, molto forte e molto prestata finora da tutti perché è stata provata all'unità in tutte le sede in cui l'abbiamo presentata e quindi credo che questo sia uno sforzo che abbiamo fatto molto molto importante. Ma è una piattaforma che va verso la cittadinanza, verso i cittadini, verso i clienti e questa è la novità della piattaforma. Per quanto riguarda il sud, quali sono le minacce più gravi del sistema bancario? Intanto per il sud sono dei grossissimi problemi, infatti nella piattaforma per la prima volta parliamo appositamente del sud, parliamo dell'occupazione che sta calando notevolmente nel sud, parliamo di come poter ovviare a questa desertificazione delle filiali nel sud e quindi è una proposta che tiene proprio conto, noi nel FOC, nel nostro fondo per l'occupazione abbiamo assunto 25.000 persone, noi chiediamo che per il sud ci sia un'azione particolarizzata, cioè nel senso che raddoppiare i contributi per le soluzioni, ma poi vogliamo che ci siano assunti il sud e non portati poi al nord come succede adesso, ma che le lavorazioni rimangano al sud, ma lavorazioni qualificanti importanti e non soltanto lavorazioni di serie B. Per quanto riguarda invece le banche straniere? Le banche straniere sono un problema per il nostro paese, abbiamo visto quel successo con ING in questi giorni, qui mancano i controlli della Banca d'Italia e qui credo che siano questi i problemi veri, il problema che noi però dovremmo affrontare è un problema politico perché mancano i controlli ma mancano anche, soprattutto per tornare al problema del sud, noi faremo tre iniziative al sud entro la fine dell'anno perché abbiamo un riscontro molto negativo da parte dei governatori del sud e delle regioni del sud, queste regioni non si preoccupano dei problemi del credito, noi crediamo assieme alle banche straniere che un altro problema è che questo sia il vero problema dell'Italia, se non c'è una ripresa economica nel sud non ci può essere ripresa economica per il paese. Le prospettive dell'area euro-mediterranea, il ruolo strategico dell'Italia e della Sicilia, l'argomento sviluppato all'Università Lums di Palermo durante il convegno che ha divisto tra i relatori anche Gian Mario Verona, rettore dell'Università Bocconi. Il convegno odierno che coinvolge il rettore dell'Università Bocconi di Milano e il rettore dell'Università Lums intende riflettere proprio sul ruolo strategico che la Sicilia può avere nell'area euro-mediterranea, un ruolo che la sinergia tra università e imprese del territorio può valorizzare restituendo a quest'isola quella centralità che per molti decenni ha perduto. I giovani, le eccellenze siciliane vanno via e poi non tornano. Senz'altro è vero, c'è un tasso di emigrazione intellettuale molto significativo e la scelta della Lums di creare a Palermo un dipartimento universitario ha proprio l'obiettivo di dare una formazione di eccellenza qui ai nostri giovani, così da evitare quella forma di turismo che porta via le migliori intelligenze dal nostro territorio. Oggi mettete in atto una sorta di gemellaggio con l'Università Bocconi di Milano. Sì, le università Lums e Bocconi hanno senz'altro un elemento che le accomuna, quello di cercare di fornire in area economica e giuridica una formazione di eccellenza ai giovani e favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro, un mercato del lavoro di qualità che possa appieno realizzare le loro aspettative di vita e le loro aspirazioni di un futuro professionale di qualità nel territorio siciliano. Invece se dovessimo lanciare un messaggio alla politica dall'Università, alla politica siciliana specialmente? Il messaggio che l'Università dovrebbe lanciare alla politica è quella di una forte attenzione. L'Università è volano dello sviluppo economico, è un investimento significativo anche dell'amministrazione regionale. Nei confronti delle università potrebbe favorire proprio questa sinergia virtuosa tra centri di ricerca e imprese che rappresenta la chiave essenziale oggi di uno sviluppo economico sostenibile. Il rilancio della zootecnia siciliana passa anche attraverso l'incontro tra allevatori e consumatori. L'Istituto Sperimentale Zootecnico organizza la mostra a mercato, latte e i suoi derivati che si svolgerà il prossimo 31 marzo in Via Roccazzo. Noi abbiamo pensato che per il rilancio della zootecnia fosse necessario che il consumatore potesse incontrare direttamente il produttore e conoscere direttamente da chi lo produce il prodotto siciliano DOP e i prodotti di formaggi d'eccellenza. Per questo motivo all'Istituto Sperimentale Zootecnico è stato predisposto l'attuazione di una serie di incontri atti allo sviluppo di tutti questi prodotti lattiero-casiari e zootecnici in genere. Il giorno 31 facciamo questo primo incontro che abbiamo intitolato latte e i suoi derivati ed è un incontro che viene fatto apposta per poter far incontrare gli allevatori e i consumatori e fare conoscere quelle che sono le eccellenze dei prodotti lattiero-casiari siciliani. In che modo sta avvenendo questo rilancio della zootecnia? L'Istituto Zootecnico ha acquisito intanto le competenze della vecchia associazione regionale allevatori che quindi sono ripartiti dopo alcuni anni i controlli funzionali che sono quei controlli che consentono agli allevatori di mantenere razze in purezza e soprattutto le razze siciliane. Quindi diventa uno stimolo al rilancio della zootecnia. La musica per dare voce alle donne col tumore al seno metastasico presentata a Palermo la campagna Volta Ti Guarda Ascolta con la cantotrice Noemi. Questa campagna Volta Ti Guarda Ascolta è fondamentale io sono molto contenta di farne parte e soprattutto questo contest play, storie che cantano è fondamentale perché mettere in musica la storia di queste donne credo che possa essere anche per loro un modo di vedersi da fuori e di sentirsi anche più forti e meno sole. Sempre la musica è terapia, ci fa sentire forse di meno il peso delle cose importanti e anche dure che attraversiamo e ci dà la possibilità anche di staccare tante volte dalla realtà oppure di riflettere in maniera importante. Sicuramente la musica poi è aggregativa e secondo me con questa campagna ci sta benissimo proprio perché queste donne hanno bisogno di non essere lasciate da sole di condividere le loro emozioni, di condividere la loro esperienza e la musica è forse il linguaggio migliore per farlo. In Italia ci sono 37.000 donne affette da cancro metastatico in genere la Sicilia sia stessa sull'8-9% di questi casi. Noi abbiamo il dato di prevalenza per quanto riguarda tutti i tumori della mammella in Sicilia dato del 2016 e quindi che sono circa 35.000 da questo facciamo un calcolo di 8-9% ecco qui che sicuramente molto probabilmente i tumori metastatici come prevalenza sono dell'ordine tra i 3.000 e i 3.500 donne però è un dato in continuum, come dire, è evoluzione grazie appunto alle terapie che noi abbiamo oggi a disposizione. Volta ti guarda e ascolta è una campagna che ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza del carcinoma metastatico del seno e di dare voce alle pazienti, alle donne che soffrono di questa malattia. La campagna è in piazza da due anni e ci sono stati vari tipi di strumenti di comunicazione che abbiamo utilizzato nel tempo proprio per cercare di abbattere il muro di silenzio che circonda queste donne donne che si trovano nel pieno della vita quest'anno la campagna si focalizza su uno strumento particolare un linguaggio particolare che è la musica che è in grado di colpire al cuore e di trasmettere le emozioni quindi abbiamo lanciato un contest per invitare i giovani artisti a scrivere dei brani ispirandosi alle storie di queste donne e a caricare i loro brani sul sito abbiamo come testimonial del progetto la cantante Noemi che ha accettato di affiancarci in questo percorso e farà parte della giuria insieme ai promotori della campagna e anche ai produttori musicali Oggi a Bagheria la giornata fai di primavera protagonista Monte Catalfano E la scelta è stata mirata perché nonostante Monte Catalfano sia un bene preziosissimo ricchissimo di flora meravigliosa oltre alla flora mediterranea propriamente detta c'è una tipologia di orchidee che in primavera fiorisce alcune di queste orchidee sono addirittura endemiche e nascono, fioriscono soltanto a Monte Catalfano Ogni gruppo, ogni scolaresca affronta un argomento lo approfondisce e poi naturalmente insieme alla classe che deve essere necessariamente iscritta c'è chi fa da apprendista cicerone è un ruolo importantissimo che i bambini rivestano con una disinvoltura meravigliosa infatti io insisto sempre nel fare partecipare tutti gli ordini scolastici e vi assicuro che i bambini delle scuole elementari generalmente attraggono anche più di quelli dei ragazzi più grandi Alfai siamo tutti volontari perdiamo tempo, spendiamo energie partecipiamo ai convegni mettendoci soldi però lo facciamo da volontari è ciò che si fa per scelta secondo me è ciò che si fa meglio Per noi è stato un piacere sapere che in coincidenza della nostra festa della primavera programmata su Monte Catalfano come gruppo che si è costituito nei primi giorni di gennaio siamo riusciti ad abbracciare questa iniziativa del FAI delle giornate della primavera che abbiamo avuto il piacere di scoprire che quest'anno avevano scelto il gruppo Monte Catalfano che cos'è il gruppo Monte Catalfano non è altro che un gruppo di associazioni che già lavoravano di bagheria che già lavoravano su Monte Catalfano e li abbiamo messi un po' insieme non abbiamo fatto altro abbiamo proposto all'azienda Foresta De Maniali che gestisce Monte Catalfano e adesso lo proporremo anche al Comune di offrire dei servizi per i visitatori di Monte Catalfano ma soprattutto di vigilare Noi durante le giornate FAI coordineremo le escursioni e le visite guidate all'interno dell'area di Monte Catalfano in particolare cercheremo di coordinare gli studenti che si proporranno come guide ai visitatori che verranno a vedere Monte Catalfano siamo un gruppo di giovani che cerchiamo con le nostre attività di promuovere il territorio attraverso dei trekking, visite guidate e abbiamo organizzato anche il notturne abbiamo fatto tantissime notturne soprattutto nel periodo estivo proprio per dare la possibilità a molta gente di venire a visitare il nostro territorio in particolare Monte Catalfano quel posto era anonimo nessuno lo conosceva la forestale ha realizzato tanto l'ha chiuso ha innescato dei processi di naturalizzazione vi ha impiantato il bosco questo bosco poi è stato restituito ai privati espropriato dal Comune di Bagheria realizzato il parco di Monte Catalfano che ha lo scopo precipico quello di consentire la fruizione e di innescare processi di rinaturalizzazione per formare di nuovo un bosco naturale parecchio è stato fatto e non ultimo la conoscenza la fruizione che di quel sito hanno i bagheresi andate lì sabato, domenica e tutti i giorni e troverete un pubblico folto che si avvantaggia che gode di quelle bellezze certo, di più si può sempre fare l'amministrazione forestale io sono il dirigente provinciale dell'azienda forestale De Maniale quindi gestiamo dal 2013 me sindaco il Comune di Bagheria affidò all'azienda forestale De Maniale la gestione delle aree in quota riservandosi per sé il Comune il pianoro di Mastro Aspano Anche per oggi è tutto vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News grazie a tutti Grazie a tutti.